Sarà sicuramente una partita intensa, noi non possiamo permetterci di perdere punti in casa e loro sono una buona squadra, conoscono Nunzi da tanto tempo e sicuramente non mollano mai. Ho visto le ultime partite, ma è tutto il campionato, compresa l'andata, e abbiamo visto dai loro risultati che sono una squadra che non molla mai, hanno dei punti di forza ben definiti e noi dovremo essere bravi a stoppare questi loro punti di forza. Sicuramente noi dobbiamo imporre il nostro gioco, la nostra intensità sia offensiva che difensiva. Sappiamo, dobbiamo rispettare il piano partita, noi quando l'abbiamo fatto e abbiamo giocato con una certa intensità abbiamo sempre fatto un risultato, quindi non lasciamo nulla al caso, abbiamo studiato bene questa partita e se ci atteniamo al nostro piano partita con la dovuta attenzione, come abbiamo fatto in passato, i due punti non ci possono scappare. Le motivazioni sono altissime e ci sono giocatori che hanno giocato a Rieti anche se con un'altra società, quindi ci sarà il pubblico delle grandi occasioni e noi non possiamo deludere i nostri tifosi. E' mancato un po' di cinismo e un po' di esperienza nelle fasi finali, con qualche palla persa di troppo nell'ultimo tempo supplementare, ma è stata una gran bella partita, recriminiamo sicuramente per queste ultime azioni dove siamo stati un po' disattenti. Grazie a tutti!